I pennelli sono abbastanza grandi e li carico solo sulla punta. Adesso qui ho da dare, sicuramente qui rispetto al modello, il modello è questo. Adesso ci sono delle zone più luminose di quelle che ho già sulla tela, che è la prima impostazione a terra d'ombra, e delle zone meno luminose. In questo caso io comincio alle zone più luminose, per esempio qui ci vuole più luce. Allora comincio a dare un po' di colore per schiarire e allargo la zona luminosa, perché da quello che vedo nel modello è più luminosa questa zona qui. Allora come procedo? Carico il pennello con un po' di colore, lo metto nel punto di massima luce di quella zona particolare e poi lavoro sfumandolo.